Ci troviamo presso l'Istituto Tecnico Vallauri Panella e oggi sono lieto di comunicare alla nostra città, al Comune di Reggio Calabria, ma non solo, al territorio metropolitano tutto, che si conclude un periodo di lavoro intenso che ha visto la città metropolitana e il suo settore, con in capo l'architetto Zoccali, che ha seguito tutta la fase di preparazione e di realizzazione di questi importanti lavori di ristrutturazione, che hanno visto consegnare, come vedete alle mie spalle, un campo di calcio a cinque e ben due palestre, una tra le altre cose che potrebbe rientrare tra le palestre accreditate con il CONI, due importanti impianti sportivi, di cui uno all'aperto, con un investimento complessivo di circa 450 mila euro. Si parla tanto di impiantistica sportiva, in un momento in cui si comincia a intravedere la luce del periodo post-pandemico, siamo contenti come città metropolitana di aver portato a casa quest'altro importante risultato, che è un risultato di tutta la città metropolitana, di tutto il territorio metropolitano, perché ovviamente non verrà messo solo a disposizione dell'utenza degli studenti che frequentano questo importante istituto presente nel comune di Reggio Calabria, ma soprattutto viene messo a disposizione di tutte quelle associazioni sportive che purtroppo nel tempo non hanno avuto la possibilità di potersi dedicare a quelle che sono delle attività che nel quotidiano danno la possibilità a tanti giovani appunto di impegnarsi nello sport, ma non solo in quelli che sono i valori dello sport, perché ovviamente questo per quanto ci riguarda è anche un valore culturale che si aggiunge a quella che è l'offerta più importante didattica che viene offerta dai nostri istituti secondari.